buonasera buonasera a tutti da mister nichilista enrico capaci da angelo antimaterialista e daniele ferraro ex nerd massa o ancora tale a tutti come state sempre nerd solo non massa bene io avrei detto il contrario ti vedo in forma quindi magari in massa in che forma questa è la domanda perché non ti alleni non ti alleni più no no è un modo iperbolico per sottolineare che il piccolo già anche picco della connessione anche picco della connessione il tempo oggi è quel che anche la in campania in quanto tempo si piove un po dappertutto secondo me oggi ma da me ieri notte oggi sono tanto un saluto alla chat tanto questa questo video lo mando in premi in modalità premiere uno dei prossimi giorni come sempre per dare un'informazione a chi la seguirà questa diretta questa diretta registrata è il 3 novembre e sono le 20 e 16 poi la prossima settimana magari devo proprio in diretta c'è tornato daniele ero io che mi sono seguito pensavo che la live fosse caduta tipo fortuna non sono uscito non è avuto un picco di calo di connessione madonna io questo nel burundi praticamente ma c'è maltempo che da te sì sì anche da un po tutta italia sì comunque allora da cosa partiamo allora direi se siete d'accordo di partire da federico faggin dalle sue proposte si volevo dire questo poi dimmi se 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 magari parafraso male secco di rassumere un attimino il suo non dico il suo concetto perché lo riassumo proprio tanto però magari per chi segue così capisce di cosa stai parlando sostanzialmente da quello che ho capito guarda alcune sue conferenze lui fa una sorta di equiparazione o parallelismo tra la nostra situazione di esseri coscienti noi sperimentiamo la nostra interiorità siamo esseri coscienti no io certo non posso vivere la tua la sua coscienza ma di sicuro sperimento la mia no ognuno di noi sperimenta la propria e questa interiorità questa vita interiore non è condivisibile direttamente con gli altri tu puoi provare a spiegarla per quanto riguarda per esempio i tuoi sentimenti puoi provare a descriverli ma non sarà mai come viverli direttamente sarà sarà sempre parziale la descrizione no anche sia perché le parole non bastano le parole sono uno strumento che permette una parziale condivisione ma non sarà la condivisione totale e sia anche per quello che interpreterà interpretere interpreterà l'altro e quindi c'è un diciamo nella realtà c'è un aspetto oggettivo se vogliamo è quello fisico quello esteriore è una dimensione invece interiore privata lui parla spesso fa ginn di questa dimensione privata che che non è conoscibile se non da te stesso e fa un parallelismo con una dinamica che descrive della fisica quantistica secondo cui noi possiamo per esempio osservare un aspetto del quantum mi pare che si chiama e comunque un aspetto di un sistema ma non tutte le sue componenti interne e che rimangono private da cui lui deduce che tra quella situazione e la nostra situazione ci sia una correlazione anzi che addirittura la coscienza sia un fenomeno quantico quella sarebbe come posso dire una non un'evidenza però una una porta ad una a questa intuizione che gli fa dire che appunto la coscienza è un fenomeno quantico in quanto anch'esso non 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 descrivibile mediante insomma le leggi fisiche ecco le leggi fisiche tradizionali della fisica classica che sono descritta in terza persona quindi da una prospettiva esterna e sì chiaramente questo parallelismo può essere un indizio ovviamente non è una dimostrazione però può essere un indizio del fatto che la stessa realtà non si riduca ai parametri osservabili misurabili e quantificabili ma che abbia una dimensione privata interiore che è complementare a quella cosiddetta esterione sì la coscienza poi come come fenomeno quantistico secondo fagin seguirebbe sia perché da un livello macroscopico come anche sostiene biagini l'attività macroscopica del cervello non sembrerebbe potersi giustificare non non sembrerebbe poter giustificare l'emergere della coscienza perché da dalle attività di natura bioelettrica e biochimica secondo la fisica può seguire solo il prodursi di risultati fisici e la coscienza e la vita psichica non sono solo processi fisici poi biagini faccio una brevissima ricapitolazione ha anche criticato non solo l'emergentismo ma anche la teoria delle dell'informazione applicata al rapporto mente cervello dicendo che l'informazione è invocata impropriamente dai materialisti nel caso del cervello perché nel cervello non ci sarebbero propriamente informazioni da un punto di vista fisico ma appunto elettroni che compongono appunto i flussi di elettricità che si manifesta al suo interno e di per sé dentro quei flussi non ci sarebbero informazioni quindi lo scambiarsi tante informazioni non non avverrebbe prima della manifestazione della coscienza e perché ha criticato questo questo questa idea perché l'informazione presuppone già che esista una dimensione cosciente rispetto a cui essere informazioni secondo me però su questo a poi certamente occorre come aveva fosse accennato anche un'altra volta puoi trovare una definizione di informazione ma secondo me il problema non è dell'informazione perché l'informazione non può essere intesa anche semplicemente come un insieme di uno e di zero semmai è come posso dire il ad esempio se questo esempio oggi giorno le macchine con l'intelligenza artificiale anche tu puoi dotarle magari di due fotocamere per osservare quello che c'è l'informazione legata a quello a quello che viene diciamo visualizzato in quadro delle telecamere a livello di elettricità c'è però è chiaro che non si può dire che vede si può dire che vede troppo l'informazione l'informazione non è l'esperienza ecco l'informazione non è l'esperienza si è stato al massimo i suoi circuiti captano un stimolo ma non lo traducono in una sensazione proprio si può definirsi proprio si possa definire informazione anche se non è il livello sentita quel livello sarebbe ancora è tutto riducibile a puro meccanicismo appunto delle componenti fisiche interagiscono con altre io penso che l'informazione sia un aspetto meccanico appunto un informazione non penso che abbia una connotazione particolarmente forse non credo che si possa ridurre però solo a quell'aspetto sicuramente non si separa da quello ma l'informazione dovrebbe presupporre non avere la contezza di del dato altrimenti lo stesso dato non sarebbe tale sarebbe solo un qualche processo fisico che fa parte di un ingranaggio di tanti meccanismi ma poi alla fine l'idea stessa la nozione di quell'informazione cioè di quel processo può essere un'informazione solo per una dimensione cosciente altrimenti mancherebbe proprio il presupposto per avere l'informazione informare informazione no implica il fatto che qualcosa sia informato di questo evento di questo dato non credo che basti ecco la captazione e questo vale anche per il nostro stesso corpo è il nostro stesso corpo capta con gli organi sensoriali secondo il materialismo la realtà esterna poi però la tradurrebbe nel cervello come percezione e qui avremmo il rappresentazionalismo come penso teoria principale per le neuroscienze o anche teorie alternative come la teoria della mente estesa di daniel dennett cioè mi si perdoni a cui aderisce daniel dennett che è un filosofo della mente un filosofo peraltro riduzionista eliminativista tanto che appunto ritiene che la coscienza sia un'illusione mi si permetta di dire che è fallace ritenere che la coscienza come consapevolezza fenomenica almeno sia illusoria perché è la condizione di possibilità per per poter avere una cognizione un'esperienza il resto si può opinare certamente si può mettere in discussione che la coscienza come fenomeno unitario sia qualcosa di reale però la consapevolezza direi di no ora ritornando alla questione sollevata da biagini quindi lui ha criticato l'informazione come nozione usata dai materialisti ma anche sulla stessa base l'idea di complessità perché come l'informazione presuppone la coscienza anche la nozione di complessità è soggettiva non è che in natura nel mondo fisico esisterebbe oggettivamente la complessità perché se con complessità si intende un grande numero di eventi che si correlano quel grande numero può essere un numero piccolo per un per una intelligenza di strumenti migliori per calcolarli o addirittura ancora più grande per chi avesse meno mezzi a disposizione quindi essendo una proprietà relativa e soggettiva sembrerebbe non non poter a sua volta valere oggettivamente al di fuori di una dimensione cosciente quindi invocarla come causa della coscienza sarebbe un errore perché richiederebbe già che ci sia la coscienza io non so fino a che punto si possa sostenere questo tipo di idee dalla mia conoscenza è correlativa io ho fatto il liceo scientifico quindi approfondito però dalla fisica le discipline scientifiche però diciamo che dalla mia conoscenza profana di questi argomenti mi sembra che almeno da un punto di vista logico reggano non so voi cosa ne pensate fino in fondo visto che l'altra volta comunque non abbiamo approfondito tutto quello che c'è da dire se posso espandere il discorso comunque mettere qualche puntino lì dove lo reputo necessario premettendo che io ho appreso di questa la di questo video oggi stesso quindi avendo questo periodo molto lavoro anche questa volta non mi sono non mi sono documentato riguardo queste teorie in modo più estensivo rispetto a come me le state esponendo quindi mi limito esclusivamente a analizzare comunque parlare di ciò che ascolto in questa sede io vorrei sottolineare che secondo me angelo quando parli di di informazione un pochino ti lasci puorviare dalla tua visione diciamo idealistica del mondo della realtà dell'universo perché l'informazione in fisica ha una definizione che io non posso fornirti in modo corretto però preciso però in questa definizione non richiede la presenza di un'intelligenza della della che la interpreta ecco che la recepisce per esempio si parla di informazione quando quando si specula o si ipotizza quella che è la natura di un buco nero quello che è il destino dei buchi neri ecco la natura intima dei buchi neri il fatto che è il paradosso dell'informazione dei buchi neri di dove l'evaporazione prevista da hooking su dei buchi neri non si sa questa informazione che fine fa l'informazione che cos'è la struttura della materia della 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 ciò di cui è fatta ecco la materia che finisce nel buco nero che fine fa tutto informazione alla fine quindi il fatto che dei neuroni si scambino tra virgolette informazioni non presuppone l'esistenza di un'entità che è di un'intelligenza di una coscienza che debba necessariamente interpretarla qualsiasi cosa informazione anche un lo scambio di un on e off di uno e zero informazione quindi se c'è in complessità in questo sistema un sistema più articolato quindi un sistema biologico che ha un sistema nervoso anche molto semplice è in grado di mandare informazioni altrimenti il cervello non riuscirebbe a a dire agli organi agli organi come funzionare a che ritmo far battere il cuore come ricordare l'intestino eccetera e qui non anche qui non serve intelligenza non c'è non serve coscienza poi riguardo la la complessità chi dice io sono d'accordo chi dice che chi sostiene che la complessità sia il la causa della coscienza per me non è sufficiente questa 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 descrizione questa prospettiva perché la complessità non è è come voler dire la complessità di un circuito è la causa di un sistema operativo o di un software no è un prerequisito di un software se un processore non fosse complesso come non ci potresti far girare gta gta 5 però per far girare gta 5 serve anche il software stesso non soltanto il processore la sua complessità serve anche tutta una serie di altre cose che è una condizione necessaria ma non sufficiente probabilmente necessaria ma assolutamente non sufficiente come detto quindi chi appunto non so se daniel cosa esattamente dice daniel dennett io so che lui è un compatibilista però questo è appannaggio dell'argomento del libero arbitrio piuttosto che della coscienza stessa della natura della coscienza però la complessità non può essere da sola un altrimenti l'universo stesso sarebbe cosciente ovviamente qui si può anche speculare al riguardo però non è sufficiente non può essere se fosse sufficiente la complessità si chiaramente l'universo sarebbe più cosciente dei suoi sottosistemi assolutamente perché intendi l'universo magari più complesso che il cervello umano che senso l'universo più complesso l'universo contiene il cervello umano l'universo contiene tutto come manifestazione dell'universo come manifestazione in effetti il cervello preso in sé potrebbe essere più complesso come struttura di una galassia infatti ci sono più neuroni nel cervello di quante stelle ci sono in una galassia come la via lattea poi ci sono tanti tipi di galassie con diversi numeri di stelle però parallelamente siamo nati in questo universo quindi c'è una correlazione ovviamente non non da poco sì sì ma poi anche sul visto che questi temi poi implicano anche la nozione di causa e della causalità e questo è un altro problema spinoso la causalità e qui e vorrei aprire una parentesi perché poi è impossibile separare la filosofia metafisica ontologia dalla scienza praticamente qualunque cosa c'è dalla nostra esperienza immediata sarebbe già metafisica termine peraltro che io almeno in un video contestato perché già è carica di presupposti perché metafisica vuol dire oltre la fisica ma noi non sappiamo neanche veramente se la realtà sia fisica o sembri esserlo ma sia di altro tipo con realtà fisica intendo una realtà non solo materiale in modo assoluto quindi e che esista materialmente in modo assoluto rispetto alla coscienza alla percezione ma che sia dotata di movimenti e che dunque non sia eternistica cioè non sia come come potrei dire una pellicola di fotogrammi eterni che simulano il divenire il movimento attraverso il loro apparire e disapparire in questo senso ti ti riferisci a molti degli argomenti che porti avanti nei tuoi video legati a teori severiniani che sono però in contrasto in parte da questo punto di vista con quelle di faggin perché lui da spazio al libero arbitrio mentre in quello di severian c'era un po meno di spazio non c'è per niente per il libero arbitrio diciamo che una risposta convenzionale sarebbe che non è eliminato e negato nella teoria severiniana secondo me invece si avrebbe addirittura la massima forma di libertà non propriamente di libero arbitrio come possibilità di modificare di le cose di di renderle altro da sé ma questo è un discorso veramente ampio che magari un giorno se vogliamo proveremo a trattare io sono discorso della coscienza diciamo visto come fenomeno quantico sicuramente tutto queste questa teoria è affascinante però se pagin denuncia il fatto che la scienza classica senza un approccio realmente scientifico dice lui ma per partito preso sostiene che la coscienza sia un fenomeno del cervello a lei però sembra che se si vuole descrivere solo questa pecca anche la sua teoria però picca un po dello stesso difetto nel senso che è un po una forzatura secondo me notare che noi non possiamo conoscere certi stati del legati ai fenomeni quantici e siccome noi stessi non possiamo esprimere all'esterno gli altri non posso conoscere la nostra interiorità allora c'è questi due aspetti della realtà sono legati è comunque una speculazione non c'è una dimostrazione neanche in questo caso di una effettiva correlazione tra le due cose può essere può essere poi io non ho approfondito molto in realtà almeno alcuni aspetti della sua concezione io comprendo molto e concordo sul fatto che voler descrivere ad esempio l'amore per esempio i sentimenti umani semplicemente con delle scariche elettriche o comunque delle dinamiche chimiche dopamina eccetera sia limitante perché chiaro che tu stai descrivendo dei meccanismi che sicuramente avvengono però quella descrizione non è quello che tu provi posso capire questa dimensione di interiorità che viene sicuramente trascurata da un certo punto di vista la dimensione interiore sicuramente esiste in virtù anche di quelle dinamiche elettriche e chimiche però poi è un'altra cosa l'esperienza poi può essere che sia un'illusione può essere che sia un discorso dell'illusione però anche se fosse un'illusione poi in che senso però si parla di questo discorso dell'illusione nel senso non la proviamo illuso illusoria in che senso ecco se appare la sperimentiamo cioè non si può più negare questo è per questo che anche se fosse un'illusione intanto esisterebbe almeno come illusione quindi esisterebbe comunque realmente allora a quel punto sarebbe falso che sia illusorio almeno che esista io il mistero dell'interiorità ce lo vedo lo vedo il mistero dell'interiorità però da qui a dedurre un discorso di come posso dire coscienza come fondamento della realtà perché dopo lui arriva a dire che appunto la coscienza è il fondamento della realtà e noi siamo un'espressione dell'universo che mediante le singole individualità vuole conoscere se stesso ecco mi sembra un pochettino una forza tua per quanto per quanto affascinante anche perché lui spesso dice ma quel materialismo se fosse vero il materialismo il libro abito non ci sarebbe noi saremo semplicemente degli esseri biologici in cui in un mondo in cui sopravvive il più adatto e questa cosa sarebbe una miseria e se fosse così sarebbe una miseria a parte che il fatto che così se fosse così sarebbe una miseria non implica che non sia la realtà ovviamente ma a parte ma anche cogliendo quell'aspetto lì dopo lui dice che con la sua teoria invece le cose cambiano però io non capisco in che misura sarebbe meno misera realtà semplicemente dicendo che in realtà noi siamo l'universo che vuole conoscere se stesso ma mi verrebbe a dire quindi nel momento in cui noi siamo l'universo che vuole conoscere se stesso quale sarebbe cosa sarebbe di fantastico di meraviglioso in ciò e io ho qualche no in effetti guardando il mondo come va sarebbe creerebbe perplessità allora intanto come giustamente anche hai ricordato c'è una correlazione innegabile tra mente e cervello che infatti non viene negata neanche da viaggini ovviamente anzi viene giustificata senza implicare né riduzioni nell'emergentismo e ovviamente anche fagginano parla della correlazione tra mente e cervello però in che modo dicendo appunto che ci sono tre sistemi fisici o comunque tre sistemi nella realtà quelli che rispondono alla fisica classica quindi che sono regolati diciamo dalle leggi macroscopiche poi i sistemi quantistici che sarebbero sarebbe la nostra mente la nostra interiorità e poi i sistemi misti che sono sia quantistici che classici il nostro corpo fisico le cellule in particolare perché le cellule sono un ponte tra il livello macroscopico il livello quantistico essendo macroscopiche come l'aggruppamento essendo anche composta da unità che sono le molecole gli atomi a loro volta composti da particelle che sono componenti subatomiche le particelle e quindi è un sistema combinato allora lui lui ritiene che ci sia ovviamente un collegamento fortissimo tra mente e cervello ma nel quale è il piano mentale che determina il piano fisico da quello che ho capito siccome secondo lui la coscienza non può emergere a livello macroscopico deve emergere a un livello non emergere proprio risiedere a un livello più fondamentale di quello subatomico e quindi la coscienza precederebbe i processi fisici che regolano nel corpo se lui non nega la realtà fisica ma sostiene che alla base ci sia chiamiamolo questo fenomeno quantico è importante infatti anche precisare lui non è che dice vi è la coscienza alla base non vi sono dei campi quantistici che hanno la proprietà di essere coscienti come base e dice e aggiunge che anche le particelle hanno dei campi quantistici in cui vi è coscienza ma la coscienza delle particelle non è nelle nelle particelle ma nei loro campi perché le particelle osservabili nell'esperienza scientifica empirica sono le manifestazioni dell'attività di quei campi così come i nostri corpi sarebbero quindi la materializzazione dei nostri casi quindi lui non nega la materia fisica ma sostiene che la materia fisica tra virgolette create necessaria per permettere di diciamo a riconoscere perché lui parla poi di conoscere l'altro per conoscere se stesso no esatto come fossimo tutti specchi e questo perché considerando la sua idea secondo la quale la coscienza e comunque è una dimensione privata per conoscere integralmente se stessa non potendosi vedere dall'esterno le vedrebbe solo sperimenterebbe solo i suoi contenuti in prima persona ma non potrebbe vedere tutti gli aspetti anche tra virgolette esteriori e quindi avrebbe diciamo la necessità di manifestare l'universo per conoscersi in modo completo a tal proposito userebbe poi la materia e i simboli che il mondo permette di elaborare per comunicare quindi la il piano semantico sarebbe veicolato dai simboli come il linguaggio che servirebbero esprimere i contenuti della soggettività della dimensione privata e secondo me nel nel panorama non eternistico severiniano secondo me è una teoria abbastanza credibile e plausibile quantomeno perché a parte che comunque ha dei punti di forza cioè il fatto che ci sono dei problemi nel materialismo che si spiegano secondo me agevolmente con la sua teoria è già un punto a favore rapporto mente cervello secondo me così si spiega meglio però per me se ne creano anche se ne creano anche altri anche solo dire che diciamo il quantum sono coscienti come fai a come fa a dirlo che sono cosciente di se stessi quella quella diciamo la materia subatomica questa è cosciente di se stessa è privata e cosciente coscienza come fa a dire come fa a saperlo perché applica il termine coscienza a quella dimensione diciamo microscopica mi sembra un dogma ecco mi da l'idea di essere secondo me poi ovviamente non so fino a che punto corrisponde alla sua teoria da quello che posso riuscire a interpretare le ragioni che posso rilevare nel suo argomento è che la coscienza da qualche parte deve risiedere e se non avesse nessun collegamento con il corpo fisico sarebbe un problema cioè ci ritroveremmo nel problema di cartesio del che ipotizzava che l'anima immateriale fosse collegata alla ghiandola pineale da che nascerebbe il problema di come giustificare un collegamento fisico tra una cosa immateriale e il corpo quindi di secondo me farginna ha pensato intanto il rapporto mente cervello si deve giustificare la coscienza se non risiede a un livello macroscopico dove in che altro livello potrebbe risiedere l'unica alternativa sembrerebbe il livello quantistico e siccome il livello quantistico in fisica sarebbe il livello fondamentale e siccome la coscienza non potrebbe essere un prodotto ma dovrebbe essere una proprietà fondamentale proprio perché non potrebbe emergere come si è detto prima secondo gli argomenti suoi e soprattutto di biaggini che è entrato più nel dettaglio da quello che che ho potuto capire poi magari mi sbaglio ma mi sembra che biaggini sia entrato più nel dettaglio delle critiche proprio al materialismo secondo me per queste ragioni ha dedotto che allora la coscienza risieda nel livello quantistico come unica alternativa a me sembrava e volevo solo dire scusa daniele e quindi per quello anche le particelle i campi delle particelle avrebbero coscienza perché se la coscienza esistesse a livello quantistico riguarderebbe tutti i campi quantistici sarebbe una proprietà fondamentale dei campi quantistici proprio perché non prodotta perché se invece supponissimo che è prodotta e allora sorgerebbe il problema di giustificare come perché si 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 vada a produrre dai campi quantistici da alcuni si da alcuni no daniele ma a me dicevo a me sembra un classico esempio della fallacia del dio dei buchi nel senso che un tempo non si sapeva dove come avessero origine tuoni e si pensava che fosse zeus col carro a causarli un tempo non si sapeva da dove venissero da dove venissero le mosche e allora si pensava che fossero non so che fossero le streghe oppure che sorgessero dal nulla oggi molte cose ancora non si sanno la scienza ha fatto numerose scoperte però come sappiamo bene e come ha sottolineato la defunta margherita h la scienza si avvicina sintoticamente alla verità quindi ogni scoperta implica numerose nuovi interrogativi quindi lo scivile si espande insieme alla conoscenza e quindi ci sono ancora un sacco di buchi dove poter infilarci il mistero che vogliamo risolvere ecco perché noi esseri umani abbiamo questa compulsione di dover necessariamente fornire una risposta ad hoc o comunque che suona bene a quelli che sono i grandi misteri ecco e fagin a quanto mi sembra di aver capito è in modo molto sommario lo fa con la fisica quantistica questa non è una novità l'abbiamo visto ormai sono decenni che succede che quando non si riesce a spiegare un fenomeno e questo lo abbiamo visto anche con la religione perché c'è chi chi prova alle a collegare la religione o i miracoli alla quantistica si tira in ballo la quantistica la fisica quantistica ora è vero che la fisica quantistica ci ha abituati a dei fenomeni che davvero sono assurdi e sfidano profondamente il nostro senso comune il nostro la nostra intuitività nella nostra intuizione e questo ci può ovviamente ci deve far riflettere sul fatto che l'universo la realtà potrebbe anzi molto probabilmente non è come la abbiamo sempre concepita in un'ottica materialista positivista diciamo probabilmente però questo non significa che ogni cosa la possiamo spiegare con la quantistica così perché è una cosa misteriosa quindi visto che la coscienza un grande mistero la quantistica misteriosa e produce effetti anti incontrointuitivi allora devono essere necessariamente collegate ora non sto dicendo che non lo siano potrebbe essere dalla coscienza sia un fenomeno quantistico tranquillamente però io ovviamente non la chiamerei teoria ovviamente la chiamerei intuizione filosofica la chiamerei speculazione la chiamerei ipotesi al massimo proprio al massimo in un'ottica scientifica no però non la chiamerei teoria assolutamente non importa da chi viene da quale personaggio quali siano i suoi endeavour quali sono i suoi conseguimenti accademici o tecnologici ora il punto è questo noi l'evidenza del materialismo è schiacciante con tutti i suoi limiti che io stesso sottolineato nella scorsa live di quanto sia limitante è limitato il materialismo come come punto di vista per spiegare soprattutto la coscienza però con tutti i suoi limiti l'evidenza del materialismo è schiacciante faggin parla se non ero faggin parla di della volontà tra virgolette di questi campi quantistici di conoscere l'universo no un po come diceva car sagan ovviamente era una metafora nel suo caso non era letterale noi siamo noi coscienze noi esseri umani noi vita siamo un modo con cui l'universo conosce se stesso ecco diciamo che faggin va un po oltre dice che è proprio c'è la volontà in un certo senso della di questa coscienza di questi campi quantistici coscienti di voler conoscere la realtà in un certo senso il problema per esempio e qui mi collego al fatto che l'evidenza del materialismo è schiacciante e che per conoscere qualcosa la devi ricordare e in che modo ne ricordiamo le cose la coscienza non ricorda un cazzo al massimo si può supporre che sia che che il fenomeno della coscienza e qualsiasi sia la sua natura il modo in cui emerge permette alla coscienza stessa di sperimentare qualcosa ma per conoscere bisogna ricordare e per ricordare ci vogliono sinapsi ci vogliono neuroni quindi in questo caso la non c'è una semplice connessione un semplice collegamento tra coscienza e cervello in questo caso è come se fossero la stessa cosa ora non sto dicendo che necessariamente a livello strutturale a livello atomico la coscienza è il cervello però io penso che sia ben più di una semplice correlazione sai daniele mi pare che proprio faggini in una conferenza almeno avesse citato i casi di esperienze di premorte anche questo è un altro chiaramente si è diventa difficile perché sono testimonianze già difficile capire come accedere no ad avere una prova della coscienza altrui figurarsi poi la testimonianza di quel tipo però se prendessimo per buone delle testimonianze di persone che sembrano aver descritto in condizioni di premorte addirittura eventi lontani chilometri dal luogo in cui ti siedevano in ospedale in quel momento nel caso in cui fossero vere queste testimonianze a parte il fatto che significherebbe che che la loro coscienza in quel momento fosse in grado di di sperimentare qualcosa oltre il corpo ben oltre lo spazio del del luogo in cui risiedevano ma già solo avere un'esperienza cosciente di qualunque tipo anche un'allucinazione un sogno sembrerebbe non giustificabile in certi momenti posto che effettivamente in certi casi di premorte l'ossigeno non arrivi più al cervello e quindi non dovrebbe esserci nessuna attività cognitiva o non lo so o insufficiente a ad avere esperienze e soprattutto esperienze che sembrano essere ancora più intense ed articolate rispetto a quelle di veglia poi ovviamente qui sono il piano delle testimonianze quindi non saprei cosa dire oggi stesso per quanto ovviamente non usa come una prova scientifica però lui dice che ha avuto di quello che pensa ovvero che l'universo mediante noi vuole conoscere se stesso sostiene descrive una una sua esperienza lui ci crede per un'esperienza che gli è capitata descrive un giorno ha avuto questa esperienza in cui sento questa grande energia e lui ha proprio capito captato percepito il tutto che mediante lui voleva conoscere se stesso descrive questa cosa ora l'ho molto riassunta quindi lui parla di una di una sua esperienza ti sento a scatti non sono io infatti ti vedo anch'io a scatti un po mi vedi o mi sento l'audio no no a daniele a daniele vedevo un po scatti a te ti sento bene ok allora la connessione fosse daniele daniele è un caso di connessione forse tu mi senti angelo sì 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 a sui ora anche vedi connessione ora mi senti ora sì però o prima per un periodo doveva merda era un po ma dicevo che fagin dice che ha avuto questa esperienza che per lui è una cosa privata sì sì è probabile è un po di se poi di ritardo lo stesso sistema sta rispondendo alla domanda di prima ora siamo speriamo che continui siamo in due tempistiche diverse siamo in due linee temporali diverse mi sa chissà che che non sia proprio così d'altronde tutto si potrebbe spiegare anche supponendo adesso sembra un'assurdità che non c'è un'esperienza temporale condivisa a vabbè tematica del tempo poi passa tanti scenari sì anche perché il tempo ma ci potrebbe essere addirittura l'ipotesi mi è venuta in mente una volta e almeno un'altra persona mi pare che l'avesse formulata ma non vorrei confondermi quindi evito di dire eventuali scorrettezza diciamo secondo la quale vi è un'unica coscienza che però vive una vita alla volta e però anche se in tempi diversi come posso dire sperimenta poi le vite di tutti e quindi non è tanto assurdo pensare che in realtà quando anche noi parliamo in realtà c'è solo una coscienza che sta vivendo una vita alla volta di ciascuno e che indifferita poi sperimenta il ruolo di una persona poi di un altro vabbè l'ho detto tanti perché comunque si sente daniele ora se ancora qualche problema di ora si ho cambiato connessione che ho sparato questa teoria ecco comunque lo so dire che faggin parlo di questa sua esperienza mistica che mi erano anche se ovviamente non la vuole utilizza questa come come prova scientifica chiaramente ma ci mancherebbe ci sono tutti gli elementi per una cosa messianica no per una religione perché c'è è molto facile qualche componente diciamo un po forzata io ce la vedo e per quanto per ripeto per me sul caso però da un lato è sicuramente affascinante magari molto bene o banale della storia e la proposito della religione appunto della religione però mi sembra proprio legato mi sembra di dire il frequente vizio di mettere al centro noi stessi nel senso noi abbiamo la coscienza e allora allora coscienza è la base della fenomeni quanti se l'universo è una grande vuole conoscere mediante noi c'è un po troppo protagonisti anche se poi ripeto come ho detto prima non è che a me sinceramente a me di essere un mezzo dell'universo che lui utilizza per conoscere se stesso non è che mi gratificherebbe la saia quindi non è che mi darebbe chissà quale no no ma infatti ma però non sarebbe esattamente così però lui dice che noi saremmo la coscienza una parte della coscienza dell'universo che vuole conoscere se stessa e la coscienza più ampia dell'universo userebbe anche la nostra esperienza ma noi non saremmo dei mezzi e basta ma no vabbè certo saremmo collaboratori ma comunque noi stessi saremmo con lui dice che noi siamo la parte la parte intera del tutto fa una e fa questa parte a questo a diciamo anche qui questa metafora noi siamo fatti di cellule scusa mi dico tantissime scisi lo volevo solo dire per il ulteriore chiarimento non è proprio antropocentrismo perché lui dice che la coscienza che noi siamo non è privilegiata comunque rispetto anche ad altre forme di coscienza cioè di coscienza come anche quella degli animali anche loro sarebbero allora vogliamo sì sì è vero l'arabica tutto non solo a noi certo intendevo più che altro un non è antropocentrismo per questo perché ecumenica nella sua nel suo mettere la coscienza alla base no della realtà il problema è che molto antropologico come discorso come come teori come ipotesi perché l'essere umano a questa malsana tendenza a scambiare la causa con l'effetto quando si chiede ma perché viviamo sulla terra perché perché siamo siamo speciali no siamo noi che siamo speciali e viviamo sulla terra non viviamo sulla terra perché sulla terra si sono verificate in modo del tutto casuale condizioni favorevole alla vita quindi noi siamo qui perché non potremmo essere dove non ci sono queste condizioni no principio antropico no e l'essere umano invece tende a pensare in modo inverso tende a dire la montagna non esiste a causa di fenomeni geologici che hanno dato a essa origine esiste perché c'è un dio che l'ha creata per esempio e questo secondo me sono i fenomeni determinanti per crearla che sono di pesi d'altro che sono di pesi dato ovviamente ovviamente tutta la la difficoltà sta nell'andare abbastanza indietro per identificare però questo trascende il discorso ora appunto qual è che questo è lo stesso lo stesso fallaccia secondo me cioè si confonde un fenomeno che comunque bene o male per quanto abbia molti lati oscuri per quanto sia controintuitivo per quanto sia incompleto noi sappiamo esistere come conseguenza di un processo evolutivo e di una serie di dinamiche biologiche chimiche cerebrali con alla base di tutto con la realtà ovvero non parlo della coscienza perché non so neanche cosa sia la coscienza non sa neanche definire parlo di cose come la volontà la capacità di di ricordare di sapere di conoscere di esplorare sono funzioni sono abilità sono cose che per ora noi possiamo spiegare soltanto con il funzionamento del nostro cervello con gli impulsi elettrici che avevano il nostro cervello con la situazione chimica neurologica che appannaggio della nostra mente del nostro cervello e con il processo darwiniano che ha dato origine al nostro cervello nostri comportamenti e nostri istinti e le nostre funzioni capacità e ovviamente ci includo anche gli animali gli altri animali cose come la curiosità la volontà di fare la volontà di fare qualsiasi cosa perché l'universo dovrebbe volere dicono di scoprire conoscere se stesso ok si può io posso speculare su tutto potrei dire che l'universo non so vuole farsi una sega a un certo punto però che cavolo significa cioè perché dovrei speculare questo in questo modo sentendo quel tema della volontà viene in mente la volontà della cosetta volontà che però non è da tendere in quel senso di schopenhauer solo solo che per lui altra volta scatti ma soltanto quello wifi se prima hai messo i dati forse o fosse caduto sarà il maltempo sicuramente sì poi lui in un'isola e queste cose il maltempo le connessioni vediamo se nuova l'anti fanno infatti non so se mi sentite vanno a favore suo questi questi fenomeni noti insomma il calo del della connessione danno ragione a daniele in qualche modo almeno a livello retorico perché a enfatizzano l'idea che la realtà sia fisica altrimenti come si spiegherebbe che il collegamento è traballante se ci sono condizioni meteo sfavorevoli sembrerebbe una forzatura pensare altrimenti no così come la coscienza è correlata al cervello come minimo e però sembra che insomma non si spieghi senza fare proprio riferimento alle dinamiche biologiche chimiche fisiche del cervello però daniele bisogna comunque tener conto che c'è la gerarchia no di quelle discipline da quello che dice biaggini quantomeno secondo me la critica che lui fa parte la soluzione che non condivido sua però la critica che fa insomma al materialismo secondo me li regge cioè bisogna prendere atto che attualmente almeno le leggi della fisica non spiegano non consentono di giustificare sono sono d'accordo sono d'accordo l'ho detto anche nell'altra live il problema è quando si fa il passo successivo non è diverso da quello per esempio tu scusano le le dinamiche dei monoteismi da quando quando il dall'ebraismo poi sono spawnate noi l'islam del cristianesimo c'era sempre un messia del cazzo voglio aggiungere che si diceva buona parte di queste cose che l'attuale no religione che seguite dice delle stronzate o comunque non risponde a queste a queste a queste domande ok siamo tutti d'accordo e io invece ho la risposta eccola pronta su un piatto d'argento in questo caso faggin tira in ballo la fisica quantistica i campi quantistici eccetera o la volontà di di voler conoscere l'universo per me questa è una forzatura madornale che non che non ha nulla di scientifico se la si vuole esplorare come ipotesi come intuizione filosofica come ho detto prima va benissimo anche se a mio avviso anche in questo caso per me viola il principio del rasoio di hocam però non è non è assolutamente scientifica e non è degna di una mente sul sul di nuovo a scatti un altro complotto del clima sulla natura quantistica della coscienza siamo fuori sinc perché io vi vedo che mi state ascoltando siete anche molto attenti però in realtà io sto in silenzio adesso evidentemente siamo siamo fuori sinc no adesso non lo vedo più neanche sulla natura quantistica della coscienza adesso non vorrei sbagliarmi però anche per rose spero di non sbagliare daniele ma anche per rosa ha sostenuto la possibile natura quantistica della coscienza che emergerebbe dall'attività dei microtubuli quindi che ma io non è quello che sto mettendo che sto parlando della 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 volontà di questa coscienza di conoscere qualcosa capito sì sì no mi rendo conto mi rendo conto che però attenzione che da un punto di vista scientifico niente esclude la possibilità per esempio che noi siamo in una realtà simulata cioè che il mondo fisico e sia una simulazione perché se fossimo in una simulazione che riproducesse fedelmente una certa idea del mondo fisico e quindi anche del funzionamento di un cervello e del suo rapporto con la coscienza noi noi sperimenteremo tale quale la stessa condizione che vivremo se ci ritrovassimo in una realtà effettivamente fisica quello che voglio dire quindi daniele non lo video adesso non c'è caduto forse caduto vabbè aspettiamo magari vediamo se rientra anche se non so perché doveva andare comunque alle 9 19 un quarto quindi se rientra però meno per salutare oppure ma la connessione defunta definitivamente comunque perché perché ho tirato in ballo questa idea che mi rendo conto sempre bizzare ipotizzare che la realtà sia una simulazione ecco qua da dire ecco qua speriamo bene speriamo mi stanno girando i coglioni costalini oggi purtroppo il tempo è quel che è oggi già già è tanto che nonostante il tempo così sei riuscito comunque a mantenerti abbastanza con costante nasi no già è tanto che so vivo la notte scorsa qua e il vento via tutto ero dimenticato giusto io poi parlando qui sembra che siamo tutti in realtà vicini invece siamo in parte diverse d'italia vc stessa regione però voi due a daniele veramente scusa se della campagna pensavo in una regione vicina ma non proprio in campagna ma no sono di capri non lo so no mi ero confuso ah ok ero convinto già da tempo che non fossi in campagna ma nelle zone diciamo in una regione si sente però l'accento simile ma è di città diverse però l'accento campano si sente siamo pienamente con paesani più o meno infatti siamo due contro uno lì c'è un polentone accoppiamo in realtà basterebbe uno di noi però in due e meglio perché enrico secondo me nasconde un lato aggressivo magari insomma pericoloso più che altro di castalespel tipo quei maghi no quei stregoni scassa le magie necromantiche vabbè adesso che che enrico sta apprendendo che è possibile una teoria di fagina magari la può strumentalizzare la coscienza scusate se ogni tanto ti vago pure io un po perché sennò dopo sono troppo serio ecco chi mi è scorso si annoia e sbaglia comunque dicevo dicevo pure enrico daniele ma se la realtà fosse una simulazione io parlo del mondo che noi crediamo fisico noi non ce ne renderemmo conto perché se fosse una simulazione fedele anche gli strumenti scientifici parteciperebbero alla simulazione quindi anche i risultati che fornissero ci farebbero credere che noi siamo un corpo fisico che la nostra coscienza è prodotta dal cervello in realtà sarebbe tutto prodotto da algoritmi di una simulazione e a questo punto quindi e come facciamo a stabilire che la coscienza sia per forza un fenomeno correlato al cervello fisico senza presupporre che esista veramente il mondo fisico perché solo se esistesse veramente allora le premesse materialiste sarebbero accettabili voglio dire comunque ci vuole un atto anche di fede non è non è qualcosa di auto evidente che la scienza possa giustificare o opporre come evidente l'impostazione delle sue premesse ma senz'altro però dipende dall'atto di fede per esempio io posso posso dire se tiro la moneta dieci volte di seguito posso con una certa approssimazione di certezza posso dirti almeno un paio di volte se non almeno se non cinque statisticamente uscirà a testa però questo è un atto di fede perché in realtà in teoria potrebbe uscire sempre croce ma pure se la tiro mille volte in teoria potrebbe uscire sempre croce perché un atto perché allora io direi con una certa confidenza uscirà almeno una testa perché la l'esperienza mi ha insegnato che statisticamente testo croce si equivalgono come statisticamente ovviamente noi basiamo sull'esperienza la nostra comprensione della realtà è sempre una comprensione incompleta è sempre una comprensione approssimativa è sempre una comprensione momentanea diciamo soggetta a revisioni e a perfezionamenti a volte rivoluzioni però deve essere basata sull'esperienza si di nuovo connessione daniele allora comunque si sembra il tempo è indifferente che sia wifi o da realista mi sentite adesso? si 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 è bloccato per qualche secondo e si è tornata si ho colto l'occasione per bestemmiare tutti i porco dì che non ho detto prima visto che siamo in video però stavo dicendo dove mi sono fermato? porca coscienza era oddio l'esperienza il fatto che l'esperienza ci dia una conferma comunque un supporto per delle idee possiamo basarci sull'esperienza perché non abbiamo molto altro dicevo la nostra comprensione della realtà attraverso il metodo scientifico è sempre incompleta è sempre approssimativa è sempre temporanea ed è sempre soggetta a revisioni e a volte a rivoluzioni anche perché poi c'è la falsa credenza che la scienza sia sempre soggetta a rivoluzione che ogni scoperta mandi a soquadro quello che si sapeva prima non è così a volte è così però il punto è che un conto è dire io sono sicuro che se tiro la moneta cento volte di nuovo si è bloccato non posso concludere sto cazzo di discorso a quanto pare se tiro la moneta cento volte? se tiro la moneta cento volte mi usciranno un tot di test e un tot di croci ma questo non è un atto di fede è una comprensione è qualcosa che traggo dall'esperienza mentre se dico la coscienza risiede nella quantistica e nei fenomeni quantistici soltanto perché non la conosciamo e perché sappiamo che produce fenomeni incredibili e che vanno contro il senso comune e l'intuizione questo è un atto di fede però vedi l'esperienza non ci può attestare no risiede aspetta risiede e risiede in un certo modo con certe caratteristiche vai continuo volevo mettere questo puntino ah no no certo no dicevo l'esperienza però non attesta che noi ci troviamo in un mondo fisico o no questo è il problema o che il mondo fisico sia una simulazione anziché altro siccome nel caso in cui fossimo in una simulazione della realtà fisica la nostra esperienza sarebbe pressoché identica non può essere un parametro per stabilire se sia più probabile o meno che ci troviamo in una realtà fisica assolutamente quindi mentre per la questione della statistica delle probabilità e ragione sulla questione della realtà fisica delle sue premesse non vale più l'esperienza solo però sai qual è il problema? è che se fosse così e potrebbe essere non lo nego siamo fattuti non possiamo sapere potrebbe essere che non abbiamo cioè siamo in una situazione critica appunto a livello epistemico quindi sì e in quel caso non avrebbe senso nessun tipo di indagine scientifica però perché non sapendolo cioè se noi ci trovassimo in una simulazione saremmo fregati dal punto di vista epistemico ovunque saremmo in una situazione di svantaggio difficilissimo da superare però non sapendolo sì è come se io giocassi su World of Warcraft esplorassi il mondo di World of Warcraft la fisica di World of Warcraft le meccaniche di World of Warcraft cercando di capire il mondo reale che invece trascende World of Warcraft vabbè sì è lo stesso concetto è lo stesso concetto del libero arbitrio che anche se non ci fosse noi comunque viviamo come se sì in un certo senso sì abbiamo l'illusione questo è l'atto è qui che risiede l'atto di fede ovviamente non è che ripungo fede nel fatto che il mondo sia fisico mi limito a prendere atto che per ora ci sembra esatto è più evidente così ma potrebbe non esserlo in quel caso sì saremmo più fottuti di prima è importante rimarcare che l'accumularsi di tante esperienze che ci fanno sembrare che il mondo sia fisico non è che aumenti la probabilità che il mondo sia fisico perché se fossimo in una simulazione è chiaro che tutti gli eventi che andassimo a vivere farebbero cioè corroborerebbero quella idea quindi non potrebbe valere una nozione diciamo cumulativa di queste esperienze lo dico perché magari molte persone invece dicono ma siccome noi facciamo sempre più esperienze si accumulano esperienze che ci fanno sembrare ci fanno credere che il mondo sia fisico allora è più probabile e no in questo caso no perché varrebbe diciamo il discorso di prima aggiungo un'ultima un'ultima cosa e poi devo dileguarmi che ho un lavoretto da fare c'è anche da dire che io potrei forgiare ad hoc un'ipotesi che diciamo godrebbe della stessa delle stesse dinamiche dello stesso spiegazione potrei dire noi siamo stati creati cinque minuti fa da un dio chiamato Cilulu con la coscienza e i ricordi di persone che hanno vissuto un'intera vita e non potremmo sapere che non è così cioè alla fine qualsiasi ci sono uno spettro di potenziali scenari ipotesi che potrebbero essere vere e che non potrebbero essere non possono essere falsificabili con la lente del metodo scientifico questo non significa che che tutto ciò che che facciamo e tutto ciò e tutta l'indagine che possiamo mettere in pratica non abbia senso comunque non debba essere presa in considerazione soltanto perché la realtà potrebbe non essere in questo caso potrebbe non avere non essere fisica sì però mentre capisco da un punto di vista pragmatico l'utilità la convenienza di agire come se però poi bisogna anche tener conto che è comunque una una ipotesi che la realtà sia come sembri per cui è tutta una teoria c'è però una gerarchia di probabilità per cui per esempio per esempio la teoria la l'interpretazione relativistica di Einstein rispetto a quella newtoniana di Newton gerarchicamente è più in alto rispetto a Newton perché è più comprensiva ma questo non significa che quella di Newton sia sbagliata e non significa che che quella di Einstein sia corretta al 100% perché come abbiamo visto la fisica quantistica va a espandere ancora di più il paradigma ecco quindi la gerarchia che si può stabilire vale quando le premesse sono le stesse cioè si presuppone che la realtà a cui si riferiscono quelle teorie sia dello stesso tipo ma quando invece si parla di mettere in discussione proprio la natura della realtà stessa e ipotizzare che ci siano teorie equivalenti che spiegano ugualmente la nostra condizione diventa poi difficile o impossibile stabilire una gerarchia cioè se per esempio noi dicessimo che questa realtà è come hai detto tu è stata creata da un dio strano Cilulù l'ho chiamato ma puoi chiamarlo Ciro Cilulù ok l'avesse creata Cilulù noi siccome in questo caso se fosse vera questa idea ci troveremmo nella stessa situazione in cui ci saremmo trovati in un caso diverso cioè nel caso in cui ci fossimo trovati in un vero mondo fisico come potremmo a questo punto dire che è più probabile una teoria o un'altra se dicessimo ma è improbabile che l'ha creato il dio Cilulù perché dall'esperienza che abbiamo adesso segue che è improbabile che qualcuno crei una realtà perché è troppo complesso perché non c'è una evidenza a tal proposito noi non potremmo però da questo trarre la conclusione che non ci troviamo in una simulazione per quanto bizzarra possa essere perché cioè se fossimo in una simulazione tutto quello che sappiamo all'interno di questa simulazione potrebbe essere fatto apposta per strarci l'inganno però però vedi qual è il problema è un problema tu essendo molto intelligente ed essendo molto come si dice come si dice quando uno mette i puntini sulle i no molto pignolo pignolo diciamo pignole pignole ha una connotazione un po' più negativa di quello che volevo dire però vabbè avendo questa impostazione tendi a esplorare un argomento da tutte le sue sfaccettature eccetera il problema è che ci vuole purtroppo per poter capire per poter avere una piccola verità la cui somma può almeno portarti a un'approssimazione di qualcosa in più anche se potrebbe essere tutta una stronzata alla fine come hai giustamente sottolineato ci vuole un modo di agire un sistema un paradigma che prevede un minimo di pragmatismo ora se io mi metto a concepire una ipotesi che prevede che che tutto ciò che l'universo mi suggerisce attraverso l'osservazione attraverso la sperimentazione attraverso l'esperienza è architettato è ingegnato al solo scopo di trarmi l'inganno per nascondermi la reale natura dello stesso universo capisci che io non posso fidarmi di niente ma il che ma certo pragmaticamente è improponibile è chiaro perché uno non potrebbe più agire perché a ogni azione potrebbe dubitare che che segua quello che si aspetta per esempio certo perché se fosse una simulazione potrebbe seguire regole arbitrarie a un certo punto me ne rendo conto questo è un problema proprio di io penso che sia un problema pragmatico come hai detto ben tu è un problema pragmatico cioè sono d'accordissimo che pragmaticamente ci convenga pensare anzi siamo costretti a pensare come se fosse il mondo una realtà non simulata proprio per evitare di entrare non lo so in dei dubbi in una forma di scetticismo che renderebbe impossibile ma sì sì ma non è neanche tanto simulata ma soprattutto simulata e poi che ci sia la volontà dietro l'universo stesso di nascondere la sua vera natura capito c'è anche l'aspetto la componente tra virgolette complottistica che rende ancora più complicato tutto certo però cioè il fatto che da un punto di vista pragmatico sia inaccettabile anche solo contemplare questa cosa me ne rendo conto non si potrebbe neanche più vivere non solo non si potrebbe fare una ricerca scientifica ma non si potrebbe neanche più vivere perché uno mettendo l'acqua a bollire potrebbe aspettarsi che congela però però questo non vuol dire che da un punto di vista strettamente logico sia corretto escludere quella ipotesi o qualunque altra ipotesi per quanto bizzarra e presupporre hai ragione hai ragione non bisogna escluderla bisogna deprioritizzarla perché esiste una gerarchia di priorità basata su quel po' quei brandelli di elementi di cui disponiamo per poter trarre per poter trarre delle ipotesi o delle teorie cioè è un po' come non so se hai mai sentito parlare della teoria della montagna di merda sì lo spiego per chi non la conosce qualcuno ne ha parlato ha tirato in ballo sì si usa nel mondo del debunking la spiego per chi non la conosce l'idea secondo cui se dovessimo vagliare qualsiasi ipotesi che venga avanzata da chiunque senza prove almeno senza prove empiriche staremmo tutto il tempo soltanto a fare questo e non potremmo indagare diciamo dei misteri comunque delle delle teorie più valide comunque che hanno una base falsificabile che possono essere falsificate è più o meno la stessa cosa nel senso che l'avevo intesa no scusa io l'avevo intesa non so se correttamente no anche in chiave critica nel senso quando si vuole polemizzare contro un'idea criticarla a vanvera ma propinando una valanga di critiche tutte scorrette in modo che si crei una valanga di critiche anche sbagliatissime ma che richiedano un sacco di tempo per essere smaltite si può anche intendere in questo modo però io in questo caso la intendo come magari sono tutte ipotesi ci sono una serie di ipotesi che sono tutte ugualmente più o meno come dire possibili non dico plausibili possibili tipo quella di Chululu o di Ciruzzo se fosse una realtà simulata comunque con chiacchi come come film cioè io dico plausibili no plausibili possibili possibili perché perché alla fine non posso dimostrare che non sia vero io non posso dimostrare che non ci sia un Chululu che mi ha creato 5 minuti fa con la memoria di una persona che è nata 36 anni fa ma se fosse io questo non mi autorizza no dicevo questo non mi autorizza a priorizzare questa ipotesi soltanto perché non posso falsificarla però secondo me non si può neanche escludere non si può neanche escludere la probabilità cioè perché se fosse meno in realtà simulata con addirittura il disegno di non farci comprendere l'unica cosa che potremmo fare dato che questa simulazione comunque non sarebbe randomica perché comunque noi le leggi fisiche che abbiamo scoperto ci permettono di spiegare parte di questa simulazione quindi c'è una c'è la correlazione causa-effetto ma se fossimo su queste simulazioni non potremmo fare nient'altro che scoprire queste leggi all'interno della simulazione che altro potremmo fare ragazzi io vi devo purtroppo vi devo lasciare vi porterei con me però va bene Daniele un servizietto veloce purtroppo è sempre breve quando si discute poi su queste cose proprio vola via infatti è volato un'ora e mezza è volata proprio niente in realtà ci metto un quarto d'ora ma penso che tra un quarto d'ora avrete già finito quindi no non mi devo fare una sega devo chiudere devo chiudere la palestra del titolare che è partito quindi mi ha chiesto il favore di chiudere la palestra io non lavoro più in palestra come sapete però faccio un favore e quindi io sì va bene ma possiamo anche magari variare argomento ogni tanto possiamo parlare anche di cose ancora ancora più più complesse tipo le donne ancora più intricate complesse guarda ci possiamo pensare vediamo un po' vabbè il giorno d'oggi non lo so sembra sempre problematico parlare di questioni sul sociale non lo so perché bisogna sì lo so quello è il bello che fai sempre qualsiasi cosa dici fai sempre incazzare qualcuno e non c'è nulla di meglio che far incazzare qualcuno io eviterei però perché poi le donne la maggior parte si parla di donne non si si scatta fango si parla parlare di donne intendo parlare di dinamiche sociali relazionali io sono un uomo quindi noi siamo tre uomini quindi parlare di donne parlare di dinamiche relazionali si parla di donne non è che parliamo di donne cioè le donne fanno schifo a parte gli scherzi non è chiaro perché poi io volevo cogliere l'occasione di questo video anche per commentare il video del nichilista di oggi su cui mi trovo d'accordo per il 60% più o meno però ora non c'è più tempo purtroppo alla prossima live sarebbe stato interessante siamo anche con l'aspetto lì esatto vabbè ci becchiamo presto statemi bene grazie Daniele allora a presto non fate nulla di sessuale tra voi vi lascio soli ciao ciao Daniele a presto a presto io volevo dire se fosse una realtà simulata proprio per definizione una cosa che potremmo fare non sarebbe cercare di navigando in questa simulazione di scoprire come è stata diciamo le leggi di questa simulazione perché comunque le leggi fisiche quello che abbiamo scoperto con la scienza torna funziona il fatto che noi possiamo prevedere anche delle cose cosa potremmo fare se non provare a scoprire quello che funziona in questo sistema sicuramente sarebbe da fare quello che non sarebbe da fare secondo me è presupporre che non sia vero ah no perché mettiamo il caso in cui mettiamo il caso in cui ci trovassimo malauguratamente in una simulazione a quel punto saremmo fregati se non sospettassimo proprio della possibilità e quindi continuassimo a vivere come se non lo fosse tra l'altro c'è la teoria di un matematico adesso non vorrei confondermi scusa se sbaglio comunque è stata formulata questa ipotesi siccome la nostra civiltà è stata già in grado di arrivare a una certa tecnologia adesso se esistessero civiltà alieni avanzate molto di più di noi teoricamente avrebbero potuto inventare sistemi di simulazione della realtà capaci di simulare interi universi perché se già noi attualmente possiamo simulare già nei videogames delle ambientazioni tipo GTA città oppure giochi che simulano ambienti scenari anche storici una civiltà molto più avanzata di milioni di anni o di miliardi potrebbe simulare universi in quel caso se ci fossero diverse civiltà avanzate che avessero simulato il nostro universo la probabilità che noi possiamo trovarci proprio nella realtà vera in un universo simulato è bassissima in realtà perché se tante civiltà potessero simulare il mondo fisico vorrebbe dire che di copie del mondo fisico me ne potrebbero essere tantissime tante quante le civiltà avanzate o anche ne basterebbe una sola di civiltà avanzata una sola capace di simulare milioni di mondi e in quel caso numericamente se supponessimo che una civiltà avanzata è capace di simulare milioni di mondi fisici come il nostro allora a quel punto la possibilità che noi ci trovassimo proprio nel vero mondo fisico sarebbe una su un milione per esempio ma a quel punto quegli esseri evoluti che hanno creato questa simulazione sarebbero i nostri creatori ma a quel punto poi l'indagine sulla realtà sarebbe impossibile su questo piano cioè la realtà dovrebbe essere un qualcosa che non è neanche proprio neanche meno che immaginabile tutto l'universo in realtà oppure potrebbe essere che è comunque fisica ma questa è una copia del mondo fisico potrebbe essere che è una copia 3D di un mondo 4D potrebbe essere una realtà fisica più dimensioni o di altro tipo di altro tipo però a quel punto non saprei come collegare l'idea di una simulazione tecnologica che noi ci rappresentiamo in queste dimensioni con queste strutture con una realtà completamente diversa una similitudine in qualche senso dovrebbe essere però sai dicevo prima il discorso del se siamo in una simulazione l'unica cosa che possiamo fare è cercare di percavarsela qui comprendere quello che funziona o comunque risponde a delle teorie e niente più perché la simulazione sarebbe l'intero universo e quindi un conto è dire una simulazione metti come mettiamo nel film Truman Show dove lui è in quel mondo finto ma a quel punto lui capendo o iniziando a sospettare che si tratti di una simulazione cerca di uscirne infatti trova la porta per uscirne in una simulazione di questo tipo probabilmente non ci sarebbe la porta per uscirne immagino perché non è un edificio semplicemente a meno dipende appunto dalla natura della simulazione dipende come è che livello sarebbe questa simulazione come sarebbe strutturata dipende dalla struttura certo però non si potrebbe neanche escludere che non c'è via di uscita non si potrebbe escludere certamente però un minimo atteggiamento di scetticismo secondo me compierebbe sempre mantenerlo perché metti caso ci trovassimo davvero in una situazione così strana provare a uscirne potrebbe servire perché magari potrebbe essere che nella realtà vera le cose possano essere migliori di questa simulazione d'altronde questa simulazione non è felice nella maggior parte dei casi cioè questa presunta simulazione sto ragionando nell'ipotesi che lo sia quindi insomma già che il mondo non sia una realtà lieta nella maggior parte dei casi dovrebbe quantomeno farci pensare che nel caso in cui fosse una simulazione converrebbe a maggior ragione capirlo però vabbè mi rendo conto che questo argomento è troppo anti-intuitivo contro-intuitivo io l'avevo tirato in ballo solo per far notare che le premesse del mondo fisico da un punto di vista logico non sono confermate dall'esperienza perché ci troveremmo nella stessa situazione anche se la realtà fosse simulata no no questo è indubbiamente sì ma per così per concludere qualche minuto ancora questa finale visto che Faggi parla anche appunto di spesso ho visto nelle sue conferenze di cita almeno l'intelligenza artificiale no criticando il fatto che si tende sostanzialmente a equiparare noi e le macchine noi e le macchine perché noi abbiamo una visione di noi per la scienza ufficiale di noi stessi come meccanici esseri meccanici no e allora anche la macchina meccanica solo che è più brava di noi in questo senso no lui denuncia questa cosa è chiaro che pensare che sia migliore di noi almeno ad oggi è colì anche perché la cosiddetta intelligenza artificiale l'abbiamo detto un'altra volta è evidente basta semplicemente fargli delle domande e ottenere risposte che si comprende proprio intuitivamente che non capisce quello che dice quindi non voglio dire che se uno non capisce quello che dice sia tra virgolette inferiori a noi quando uno dice quando si dice meglio o peggio di noi dipende anche in cosa di cosa si sta parlando se uno vuole parlare della potenza di calcolo è ovvio che un calcolatore è certo se uno vuole parlare della natura in sé è chiaro che è completamente diverso però perché per il discorso dicevamo prima da cui siamo partiti noi sentiamo noi sentiamo abbiamo questa interiorità abbiamo questa dimensione che la macchina non ha oggi non ha certo non si può non si può avere certezza che non sarà possibile un giorno ovviamente una macchina che possa essere in grado di 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 auto percepirsi un giorno se si potesse lui ha detto che ha provato anni fa ha provato il suo obiettivo era provare a costruire una macchina cosciente dopo due o tre anni poi ci ha rinunciato non vuol dire che se non ha trovato lui non sia possibile per decenni però se ci si è arrivato è chiaro che se ci si riuscisse al problema però sta dicendo che se ci riuscisse un po' la sua tesi verrebbe meno probabilmente ma dal certo punto di vista se ci si riuscisse non è neanche dimostrabile proprio per il discorso del privato come potresti sapere se la macchina è cosciente dato che non lo so neanche di te non lo so neanche di te che potrebbe dare dei segnali che sembrano rimandare alla coscienza senza averla ma anche ammettendo che la avesse non sarebbe una prova che è stata creata cioè la coscienza potrebbe essere di un campo quantistico collegato sia quella struttura tant'è che mi pare proprio che in una conferenza che ti avevo indicato sua lui ha detto del pericolo addirittura che campi quantistici non umani se si creassero dei robot potrebbero agganciarsi alla struttura dei robot e controllarli ora non ho capito bene che in effetti che cambi no dico in effetti se il discorso suo della coscienza come fenomeno quantico che si manifesta nel nostro cervello mediante il nostro cervello se con una costruzione artificiale non biologica riesci a creare un circuito paragonabile al cervello perché la diciamo la perché non si doveva manifestare anche nell'hardware artificiale la coscienza non sarebbe da escludere potrebbe come proprio come stessi adesso potrebbe manifestarsi comunque a meno che non ci sia un collegamento ci sia un aspetto biologico non replicabile infatti infatti da quello che ho capito lui dice la struttura biologica è determinata da un certo campo quantistico per cui se c'è un corpo robotico vuol dire che non è associato di base a un campo quantistico di tipo biologico che sembrerebbe essere quello che ha una coscienza unitaria perché lui dice tutti i campi delle particelle hanno una forma di coscienza elementare però poi ci sono anche dei campi che includono altri campi e noi saremmo uno di quei casi e a nostra volta noi faremmo parte di campi quantistici più ampi fino ad arrivare al campo quantistico del tutto però se si parla di microscopico definitamente piccolo non dovrebbe essere diversa a livello di fisica quantistica cambia se si tratta di biologia chiamiamo di materia biologica o un sasso no infatti a livello quantistico i campi delle particelle di un sasso sarebbero coscienti come le particelle del cervello però mancherebbe cioè un semplice aggregato di particelle che formano una struttura cerebrale ma non di di tessuti umani come posso dire o comunque di tessuti animali ma circuiti di altro materiale potrebbero non essere associati a un campo ulteriore onnicomprensivo tutto qui quindi potrebbe essere solo per questo tuttavia nel caso in cui dei robot avessero tra queste coscienze in realtà si potrebbe pensare che non sia la struttura robotica ad avere coscienza ma un campo di per sé cosciente che si sia si possa essere agganciato e qui si potrebbe aprire delle speculazioni sarebbero entità che vengono dalle religioni definite angeliche demoniache oppure aliene io dico solo questo che e se se non si conosce la natura e la struttura della realtà non si possono escludere anche ipotesi del genere quello che è errato è sia escluderle che accoglierle senza delle evidenze insomma senza però vabbè insomma quella sarebbe l'idea che dei campi io non ho capito poi bene Faggin a cosa si rivolgessero ho sentito solo l'espressione campi non umani poi magari ho capito male e che fosse un pericolo perché questi campi non sapendo insomma la loro natura e il loro funzionamento potessero creare problemi ci ho detto cosa stavamo dicendo prima sempre sull'intelligenza tutto il discorso dell'intelligenza artificiale il fatto che l'intelligenza artificiale adesso non mostri ancora coscienza l'hai detto bene perché e non mostra neanche vera intelligenza per ora l'hai detto bene perché praticamente quando fa un discorso la chat gtp usa un sistema probabilistico di associazione delle parole forse lo sapevi già quindi praticamente mi sono accorto mi sono ancora facendo delle domande delle domande banali tipo ho chiesto come si chiama l'album in che anno è uscito l'album di questo cantante e mi ha tirato fuori una data 1993 poi si è messa a dire da solo senso che lui chiedessi e questo è il primo album come se poi l'anno dopo ha fatto uscire un album chiamato io sono andato a vedere ed era un dato sbagliato io l'ho corretto dicendo guarda che quell'album che tu hai detto è uscito nel 94 in realtà è uscito nel 96 e lui risponde dicendo un'altra cosa sbagliata io gli replico anche quello e va a ripetere la cosa di prima è chiaro che un essere che comprende una dinamica di questo tipo ma non è la prima volta ho visto anche altri video di altri si capisce proprio che non c'è anche se non dico che non sia un qualcosa di innovativo rispetto al passato però si nota proprio che non sa quello che dice non sa quello che dice non sa quello che dice non ragiona non ragiona non lo intendo se lo sapesse non direbbe certe cose non farebbe certi errori perché gli errori li facciamo anche noi ma certi errori sarebbero impossibili se tu sapessi quello che dice non è che ti contraddicerebbe mi viene da ridere perché molte persone sembrano chat gtb se tu gli fai notare degli errori non è che aggiustano il tiro ritrovano sui loro passi però magari in malafede forse non lo so in questo caso non si direbbe a volte però chi lo sa si si ci sono delle analogie infatti alcuni alcune persone studiando magari l'intelligenza artificiale si chiedono se in effetti anche il cervello umano funzioni per associazioni molte volte sembrerebbe che ci si limiti a quello ed è un po' un po' un po' brutto da una parte pensare che la nostra intelligenza si deduca a una computazione probabilistica di termini che si associano così il punto anche per paragonare umano quando si parla di umano poi sappiamo cosa intendiamo però se ci pensi l'umano è mille cose perché faccio fatica ad usare l'umano come tutti ci sono assolutamente diverse fra di loro che avrebbe da dire quasi appartengono a specie diverse pur essendo nella stessa hanno proprio anche un modo di ragionare come è anticipato adesso un modo di sentire un modo di comportarsi però vabbè si generalizza umano tornando al discorso del paragone umano e macchina c'è anche da dire secondo me che si sottolinea appunto questo aspetto del nostro sentire questa nostra coscienza e verosimilmente almeno ad oggi l'assenza di questa coscienza della macchina che poi è collegata non sapere quello che si sta dicendo ma poi c'è anche un altro aspetto in realtà che si sottovaluta rispetto alla differenza cioè che noi a differenza della macchina abbiamo anche noi pensiamo al discorso dell'intelligenza come ragionamento e tutto ma noi abbiamo anche tutta la componente irrazionale certo tipo di pulsioni certo tipo di irrazionale che porta alla creatività cioè noi tendiamo a settorizzare tutto quindi l'intelligenza la razionalità gli istinti poi in realtà questa macchina che è il nostro cervello funziona tutto insieme quindi anche quello che noi chiamiamo irrazionale magari pensiamo di essere mossi solamente da un ragionamento ma in realtà magari ci condiziona anche una pulsione irrazionale e quindi che ruolo ha nella nostra comprensione delle cose delle nostre valutazioni quell'irrazionale ce l'ha ce l'ha anche irrazionale non inteso come non ragiono irrazionale inteso come forza legata ai sentimenti un'emotività sentimentale e poi e che magari semplicemente non è decifrabile come sul piano razionale ma non vuol dire che sia qualcosa di privo di una sua razionalità magari è una razionalità o superiore o diversa che non riusciamo a decifrare e io credo questo in realtà che il piano emotivo nostro quello più che ci caratterizza come umani abbia una sua logica non riducibile alla logica cosiddetta razionale classica convenzionale questo sicuramente e secondo me muove le fila di tutto cioè il modo di ragionare forse di quasi chiunque è almeno un po' condizionato da questa dimensione basti pensare proprio come si diceva prima perché noi vogliamo credere che il mondo sia fisico perché così è prevedibile e perché dovrebbe essere prevedibile mica perché è una necessità logica ma perché è una necessità desiderata da noi dalla nostra volontà di vivere in un certo modo e anche appunto le paure anche le paure le cose la paura ecco l'angoscia di non sapere come sopravvivere di non sapere come regolarsi con il futuro anche immediato questo è chiaro che certe aree del tipo di emozioni sono una parte del cervello la cortesia cerebrale che dopo non so se a livello di macchia di intelligenza artificiale è replicabile una sorta di circuito neuronale che possa simulargli la paura eccetera anche questo non so se sarà mai possibile la paura una macchia che ha paura che ha appunto l'emozione l'emozione perché poi dopo c'è il tema che fosse avantiato qualche live fa non l'ultima tanto tempo un po' di mesi fa ma anche lì però anche lì il tema è collegato perché la paura no? sensazioni come la paura la rabbia la curiosità sono strettamente correlati comunque alla coscienza al sentire sai non mi fai a aver paura se non ti percepisci sono strettamente collegati collegamente esatto esatto però appunto però quella parte ci deve essere perché se ipoteticamente con un certo tipo di complessità viene fuori il sentire non è che automaticamente questo sentire porta con sé la paura è tutto è tutto l'insieme la capacità di provare paura e emozione oppure si può contemplare la possibilità di una macchina intelligente cosciente che non prova emozioni non lo so se è possibile perché già diciamo che almeno la consapevolezza fenomenica potrebbe anche non implicare la dimensione diciamo più umana però chi avesse solo questa forma di consapevolezza semplicemente avrebbe solo una cognizione sensoriale al massimo cognitiva di qualcosa senza una dimensione però cosciente propriamente detta quindi non sperimenterebbe emozioni sentimenti però si renderebbe conto di quello che sperimenta a livello immediato di sensazioni forse forse quella coscienza la potrebbe avere un robot ma sempre secondo me nel caso in cui ci fosse un campo che si collega al robot perché un campo unitario creato da delle particelle non reggerebbe secondo le teorie di Fagini che io condivido relativamente poi perché comunque ci sono delle differenze con la filosofia severiniana che è quella che innanzitutto sostengo e se la sostengo mi si consenta di dirlo Enrico è per il rigore cioè perché il rigore che la caratterizza fa sì che le premesse del suo discorso si rilevino essere la base di ogni altro per cui se accetto una qualunque teoria devo a maggior ragione accettare le premesse di quella filosofia e siccome per ora risulta che da quelle premesse seguono le sue conclusioni e allora diciamo che per ora mi trovo costretto a sostenerla da un punto di vista filosofico però non escludo che ci possono essere degli errori nei passaggi però le premesse se sono cioè credo che sia difficilissimo negare le premesse base perché sono comuni a ogni discorso qua magari andiamo un po' oltre la diretta in chiusura però mi permetto di dirla forse l'avrò già detta anche dialogando con te ma è la premessa che l'essere di ogni aspetto della realtà è quel che è cioè se ci si fa caso alla fine di ogni discorso se non fosse vera questa premessa non potrebbe essere vero nulla perché qualunque qualunque concettura anche contraria a quello che si sta dicendo adesso per valere presuppone di essere significante e quindi che l'essere suo il suo essere determinato in un certo modo sia quel che è e non nulla e questo implica che la la principalità è ontologica anche per le questioni logiche anche per le questioni scientifiche cioè una teoria scientifica non potrebbe valere se non si assumesse che gli enti a cui si rivolge sono quel che sono anziché altro cioè se per le teorie che abbiamo discorso non si presupponesse che una particella non è una galassia che il livello quantistico non è il livello macroscopico sarebbe impossibile anche sull'esprimere un'idea perché tutto varrebbe come la sua negazione quindi sembra che ci sia un livello base di premesse che fanno capo a quella filosofia per cui se si accetta un qualunque discorso a maggior ragione non si possono rifiutare a mio avviso almeno le premesse di quella filosofia quelle premesse portano all'eternismo e alla negazione del divenire letto in termini classici per cui niente di Fagin mi affascina appunto non solo le analogie con quella filosofia ma proprio il fatto che collega la dimensione cosciente con la nostra dimensione privata e riesce a giustificare il rapporto mente-cervello senza escludere una corrispondenza tra mente e cervello perché chiaramente chi ascoltasse questa diretta o almeno quello che ho detto io potrebbe contestare ma per esempio danni cerebrali causano cambiamenti mentali fino ai danni più gravi che possono portare anche alla fine della coscienza purtroppo ebbene si può rispondere come ha fatto Biagini dicendo che sì ovviamente c'è una corrispondenza ma questa non dimostra che la mente sia il cervello o che sia creata sperimentata nel cervello ma solo una connessione davvero in estrema chiusura e sintesi persino il Ribergson nell'ottocento un filosofo importante nella storia della filosofia ha analizzato il caso di pazienti con danni cerebrali affetti da perdita di memoria recuperare la memoria con delle terapie nonostante le lesioni fossero rimaste cioè ha dimostrato con i suoi studi che la memoria per esempio di cui ha fatto prima accenno Daniele ecco guarda guarda caso si parla di memoria stavo confondendomi con il nome vabbè con Daniele dicevo ecco ma mi stavo dimenticando pure una cosa chiama l'altra allora vabbè si saranno scaricate le batterie a me evidentemente dopo più di un'ora e mezza allora il fatto è questo se la memoria fosse dentro il cervello a delle lesioni cerebrali sarebbe impossibile poi far seguire un recupero della memoria perché se i ricordi fossero immagazzinati in circuiti neurali compromessi recuperare quei ricordi sarebbe impossibile e quindi si è speculato sull'idea che la memoria per esempio non esista dentro il cervello ma sia al di fuori e semplicemente il cervello potrebbe connettersi a questo livello e Carl Pridbram più avanti mi pare comunque o nell'ambito della psicologia della psichiatria o comunque delle neuroscienze adesso non ricordo bene studioso comunque del cervello e della mente ha sezionato poverini poveri topolini il loro cervello facendogli percorrere dei labirinti nonostante avessero pezzettini di cervello mancanti dove si supponeva risiedesse la memoria loro riuscivano comunque a recuperare i ricordi e uscire comunque dai labirinti e quindi in qualche modo si è pensato che la memoria non sia localizzata in una parte specifica del cervello ma sia qualcosa di più diffuso che diciamo quindi può anche immaginarsi esistere altrove e quindi questo rafforza l'idea che antiriduzionista della mente ma non sapevo di questi esperimenti sul discorso del cervello ma scusa ma si è fatto delle terapie però le terapie su cosa agivano sul cervello comunque forse no credo a livello più comportamentale forse che fisiologico non ho capito va bene carissimo sono le 9 le 10 9.58 sono le 10 terminerei qui tanto si cos'è un'ora e 43 di live e poi direi la prossima settimana se sia tu che Daniele potete direi poi ufficializzeremo ovviamente i prossimi giorni magari venerdì possiamo fare una live in diretta questa volta poi se non si può venerdì comunque un giorno di attorno ci organizziamo intanto questa la metto in premiere la metto oggi è venerdì giusto magari domenica sera la metto perché domani faccio la mia live domenica sera la metto come video perfetto va bene va bene Enrico ringrazio te Daniele e chi ci seguirà e come sempre io auguro poi buona riflessione e buona vita a tutti grazie per la tua partecipazione bellissima live di un'ora e 40 molto stimolante vediamo la prossima settimana allora ok allora a presto a presto ciao a tutti in chat e commentate ciao ciao ciao